Certamente che lo siamo. Noi stiamo cominciando a utilizzare razionalmente i fondi europei, puntando essenzialmente sulla qualità dei progetti. La Sicilia ha bisogno di medie e grandi infrastrutture. Abbiamo cominciato a spendere con un ritmo impressionante. Abbiamo trovato, per esempio, la spesa certificata a dicembre di appena 6 milioni. Contiamo di potere il mese entrante arrivare anche ad oltre 600 milioni di euro, perché le imprese hanno capito che bisogna cambiare mentalità. Lo ha capito anche la classe dirigente. Questa è l'occasione giusta per ridare alla Sicilia il protagonismo nell'area euro-afro-asiatica che merita e che purtroppo da tanto tempo ha perso.